Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come non avete letto dal titolo oggi vi ando a spiegare un po' le canne che ho utilizzato più nel 2019 e che mi accompagneranno in tutto il 2020 Però, 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 non nascondo che ci saranno altre canne in arrivo Questa è una piccola modifica rispetto a un format che ho portato due anni fa che vi è piaciuto molto dove andremo a presentare la mia attrezzatura da spinning Quest'oggi farò lo stesso però facendo una selezione delle tre canne Infatti sono quelle che ho utilizzato di più in questo 2019 e in pratica quelle che mi hanno regalato più emozioni Perché se dovessi andare a dirvi tutte le canne che ho un'ora di video non ve lo guarderete mai Dunque ragazzi mi raccomando lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Superiamo i 100 like anche per questo video Dunque direi via con la sigla Dunque direi via con la sigla Dunque direi di partire dalla prima che è quella che in questo 2019 ci ho pescato di più Mi hai regalato anche dei gran bei pesci E... E' quella che sono riuscito più a sfruttare No Ed è quella che sono riuscito a sfruttare meglio Sto parlando della Seika Optical Abbinata Sto parlando della Seika Optical 2,12 grammi Solid tip E di lunghezza dovrebbe essere 2,20 7 piedi e 3 2,20 m Questa canna l'ho portata a fare veramente veramente di tutto Abbinata c'è l'Arias 2000 Con trecciato Vai da 0,08 E in genere nel terminale è un 0,18 Dopo posso mettere magari un 0,16 Un 0,20 Quello che è Però Quella che mi trovate sempre nel video Praticamente è 0,18 e 0,08 Punto Questa canna ha un'ottima schiena Che permette di forzare pesci forti come le carpe O come un siluro Però punta molto sensibile Infatti l'ho utilizzata a rock fishing L'ho utilizzata comunque a carpe Che comunque un po' di sensibilità e di morbidezza nella punta Ogni tanto ci vuole Soprattutto per muovere le piccole esche Mi ha permesso di fare un sacco di pesci Ho preso i chiozzi Ho preso le bavose Ho preso Mormone Ho preso Sugarelli Ho preso carp Ho preso siluri Ho preso Perca Ho preso un po' di tutto Cavedani Reali Non so Forse ho preso anche altri pesci ma non mi ricordo Quando è che vado ad utilizzare questa canna? Perché e come? Allora questa canna la vado ad utilizzare principalmente Quando do pescare la testina Tipo fast fishing Con testine Fino ai 5 grammi Meno male oppure con metal jig Tipo in mare perché 2 metri e 20 Una schiena così E quest'azione qui praticamente Gli conferisce veramente Una lanciabilità dell'esca Veramente eccezionale Poi mettiamoci sullo 008 Che comunque è uno 008 Che rispetto ad altre marche Tiene molto di più l'abrasione Questo trecciato Boh Non so quanti pesci ha fatto Gli altri trecciati dello 008 Sarebbero già il doppio Ve lo dico per esperienza personale E tutti i frogati Questo invece ha una resistenza molto ma molto alta Infatti mi ha permesso di fare Dei gran bei pesci anche in mezzo alle cannelle E erbai Dunque stavo dicendo Testine piombate Fino ai 5 grammi Dopo vabbè metal jig Dai 3 ai 7 10 grammi Poi cos'altro abbiamo Qualche piccolo hardbait Ogni tanto Magari I crank da trutaria Esche veramente piccole E poi drop shot E poi drop shot fino a 5-7 grammi Tanto è praticamente alla portata di tutti Però ha delle basi di alta qualità Il prossimo passo sarà utilizzare la trutaria Che è l'unica cosa che mi manca Passiamo alla seconda canna Che mi ha accompagnato da fine anno Diciamo Questa canna L'ho presa perché Mi serviva un qualcosa di più potente Soprattutto perché Ultimamente mi sono dedicato alla pesca al perca Ho bisogno di una canna non solid Per pescare a drop shot più pesante Anche per utilizzare hardbait Magari un pochino più sostenute E adesso vi andrò a spiegare meglio Sto parlando della Seika Spirit Una canna che Veramente può essere utilizzata Per un sacco di pesche Si può pescare sia a gomma Sia ad hardbait Ha una punta veramente Non morbida Però sensibile Che permette di sentire le minime toccate La utilizzo a reali La utilizzo a perca E le mangiate si sentono benissimo E quindi mi permette di pescare la testina Da 7 grammi Fino a 15 grammi Oltre a quelle testine non le utilizzo Mi permette di utilizzare Piomi da drop shot Da 7 grammi a 15 Però mi permette anche di pescare A jerkbait Long jerk Crankbait E tutto quello che ci va dietro Utilizzare per esempio lo Speedex Questa l'ho presa soprattutto Per i cavalli da nicolo Speedex Quest'estate 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 del 2020 E comunque ci tengo a sottolineare Che venerdì prossimo Uscirà un video Dove spiego le esche Che sono state per me Più importanti Fondamentali Questa canna Per cosa può essere utilizzata Allora intanto Mi stavo dimenticato di dire Che ci ho abbinato un redon Di taglia 2000 Un inello abbastanza leggero Con un'ottima presa sul pomello Veramente Veramente comodo E che servirà anche bene Alla canna Se guardate Qualcuno come me Amante dello stile Guardate che figurino E in questo caso Ci ho messo sul trecciato Dello 0.12 Sempre viral Perché a perca Ho bisogno di un filo Un pochino più grosso Anche perché pesco molto in erbaio Ultimamente 0.12 rispetto a un 0.8 Comoda Terminale dello 0.25 Sempre per andare a perca E questa canna Può essere utilizzata Come ho detto poco fa Perca Reali Data la sua sensibilità Utilizzata anche a basse Spigole Vorrei provare la carpe Però Ora come ora Sono un po' troppo overkill Può essere utilizzata A cheppie Comunque a trote In torrente Ed è una canna Che comunque Tiene bene Anche i grossi pesci Ne ho già fatti un bel po' Cioè questa canna È arrivata E ho fatto subito Un sacco di pesce Ma di taglia Adesso Dovranno ancora uscire i video Però tra poco Preparatevi Per che usciranno Un sacco di video Con questa canna Di pesce di taglia E veramente Cioè Appena è arrivata questa canna In tre settimane Ho fatto tre pesci Tre pesci di bella taglia E proprio così Cioè Tre pesci diversi Tra l'altro Che non vi sto a dire Questa canna Insieme all'Optical E un'altra canna Mi farà accompagno In una gara molto importante Che scoprirete Più avanti Cosa sarà È una gara Veramente Veramente importante Che volevo partecipare Da tanto tempo E quest'anno ce la farò Questa versione qua È due metri dieci Canna curta Che mi serve per pescare Dal kayak 1,80 2,10 Più o meno Con la range Migliore Da utilizzare 5,20 grammi Quindi abbiamo la possibilità Di lanciare I piccoli jerk E in modo da pescare Tranquillamente Con testine Micro jig Non metal Ma anche quelli normali Dai 5 grammi Fino ai 20 grammi Tranquillamente Anche hardbait Da 20 grammi Ho provato jerk Da 20 Digestice Senza problemi Sia in lancio Che in recupero Ci vedo un po' La canna Per chi non l'avesse ancora vista Anelli Fuji L'unica cosa che mi manca Probabilmente È testarla con una spigola Che sarà il mio prossimo obiettivo Infine Andiamo a parlare Dell'ultima canna Che Quest'anno Ha ricevuto Un piccolo aggiornamento Stiamo parlando Stiamo parlando Della mia storica Finesse Limited Con cui Il mio canale È cresciuto Praticamente È la versione Ultralight Adesso non è Più quella più leggera C'è un'altra più leggera Ancora Però questa è Leggermente più morbida Quest'anno Ha ricevuto Il Drex 2000 Un inelino Comunque economico Tra virgolette Che però Rispetto A Un'altra marca Molto famosa Ha qualche chicca in più Che lo rende un mulinello Qualitativamente migliore In bobinato Ci abbiamo Un Gorilla Silver Dello 014 Questa canna L'ho settata Per pescare All'area Ma comunque Anche Magari Cavedani Pesca molto Ma molto leggera Carpe no Perché Non voglio lasciare Esca in bocca Se mai potrei Buttagli su un po' Di 018 Potrei pescare anche carpe Cioè L'avete già vista Questa carpe Ha tirato fuori carpe Da 6 chili Cioè Non è una canna Che ha bisogno Di presentazioni Con un po' di pazienza Questa canna Può tirare su di tutto Nonostante Sembri una canna fragile Questa canna Dovrebbe lanciare 0,3 grammi 0,2,5 Più o meno Come casting E la si può utilizzare Con Piccole gomme Spoon E piccole hardbait Ha praticamente tutto Carpe Cavedani Carassi Troutaria Quello per cui è nata Questa canna Veramente ti permette Di fare tutto Sul limite dell'ultralight Puoi fare anche i reali Io l'ho utilizzata Con Micro jig Da 7 grammi Però Non in lancio Appoggiandoli E basta E con La sua azione Armoniosa Morbida Permette di Allamare il pesce Più Apatico Che preferisce Movimenti Più sobri Più morbidi Rispetto a Movimenti Più Veloci Scattanti Di una canna Più rigida Questa non è una cosa Sottovalutare Quando il pesce Apatico Una canna Morbida Così E dei movimenti Molto lenti E morbidi Che ti permette Di fare questa Veramente Fa differenza Spesso con questa canna Ho fatto pesce Davanti a altre persone Che loro pescavano Grosso Pescavano Molto veloce Repentinamente Io con la mia gommina Testina 3 grammi Andavo giù Pesce Subito Diretto E pesce anche Di una Bella dimensione Questa canna Viene fatta In Tre modelli Light Ultra light Extra light Tutte e tre Da 1 metro 80 Tutte e tre Con anelli k Senza pietra Per tenere La canna Più leggera Possibile E Non dare Troppo fastidio Alla piegatura della canna In modo che Non si rompa Come vedete Non ha neanche Il porta esca Per evitare Di rompere la canna Perché questa canna Veramente si piega Tutto il fusto E' una canna Veramente Veramente Leggera Questa Estremamente bilanciata Con un uninello Del genere Guardate qua Dunque mi raccomando Ragazzi Venerdì prossimo La parte sulle esche E lunedì Vi annuncio Che ritornerà Competition is life Con una gara Fuori di testa Ma veramente Fuori di testa Dunque mi raccomando Ragazzi Lasciate like Condividete i video Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Passate anche dai social Trovate un po' di link Qua sotto in descrizione Se volete un po' Di informazioni Ben dettagliate Da rileggere Tranquillamente Guardate bene La descrizione Che ci avete veramente Di tutto Dunque spero che questo video Vi sia piaciuto Per questo video è tutto Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.